Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter, nuovo video acquisti compulsivi su Vinted. Ragazzi, ultimamente ho acquistato un bel po' di cosine, mi ero preso un attimo una pausa, mi ero proprio disintossicato da Vinted, ma nelle ultime settimane sono ricaduto nel tunnel e quindi ho trovato un altro paio di chicchie che ho subito acquistato. Prima di cominciare però vi ricordo che su Pampling, utilizzando come sempre il mio codice sconto 7Potter, avrete con ogni acquisto un paio di calzini in omaggio e il codice è cumulabile con tutte le offerte in corso di Pampling ed è l'utilizzabile all'infinito. Trovate anche la mia vetrina Amazon sotto in info box, con tantissimi prodotti scelti da me a tema super nerd di cose che ho acquistato e che ho intenzione di acquistare, soprattutto a tema Harry Potter e acquistando qualsiasi cosa anche non presente nella mia vetrina su Amazon, accedendo da uno dei miei link, sosterrete il canale con delle piccolissime percentuali che Amazon mi riconoscerà. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e cominciamo da questo pacco che contiene, naturalmente sono tutti già aperti perché sapete come funziona Vinted, bisogna controllare la merce, dare l'ok per inviare il pagamento al venditore, quindi bisogna necessariamente aprirli subito una volta ricevuti. E qui troviamo una cosa che aspettavo da tanto tempo, che aspettavo di trovare da tanto tempo, ed è uno dei volumi di MinaLima. Questo è il quarto volume che riesco a trovare su Vinted, ne ho già tre e me ne mancano altri due a questo punto, e spero di trovarli, e si tratta dell'agenda di MinaLima che va a riprodurre il libro Animali Fantastici e dove trovarli di Newt Scamander. Quindi adesso ve lo mostro, era super imballato bene, ed eccolo qui, vorrei aprirlo, se solo riuscisse a trovare l'apertura, eccola qui. E con la copertina nera è oro, anche sul retro è decorata in oro, ha le pagine in oro, bordate tutte in oro, e naturalmente sulla costa abbiamo FB che sta per Fantastic Beasts, e poi sotto abbiamo NS che invece stanno per Newt Scamander. Sulla parte bassa, nel retro, c'è il logo MinaLima, e ragazzi a me piacciono tantissimo queste... sono delle agende, sono dei quaderni a righe, semplicemente all'interno, ma mi piacciono moltissimo perché sono le grafiche originali di MinaLima, e abbiamo questa, io per esempio possiedo già quella delle fiabe di Betelbardo, quella del libro di pozioni avanzate, e se non sbaglio anche Storia della Magia, mi manca Storia di Hogwarts, è il libro per principianti di difesa contro le arti oscure, quella lì che tiene in mano la professoressa Umbridge, che fa utilizzare ragazzi a scuola durante il quinto anno, quindi quella per bambini, diciamo. Mi mancano queste due che non ho ancora trovato su Vinted, ma la speranza è l'ultima a morire, quindi gli ultimi due ce la faremo. E poi ho acquistato anche questa, che è una bacchetta Noble Collection, ma si tratta della versione venduta al Warner Bros. Studio Tour, infatti qui sotto abbiamo il logo del Warner Bros. Tour, e si tratta della bacchetta di Ermione, bacchetta che io non avevo originale, avevo solamente delle copie non ufficiali, ed eccola qui. E ragazzi, l'ho acquistata ad una cifra assolutamente ridicola. Questa bacchetta l'ho pagata 7€, l'ho pagata solo 7€, arrivava dalla Francia, e niente, non potevo lasciarla per 7€, non potevo assolutamente lasciarla su Vinted, e l'ho presa. È ovviamente realizzata in resina, è a tutti gli effetti una bacchetta Noble Collection. Adesso a questo punto del trio mi manca solamente la bacchetta di Ron, che è una di quelle che voglio andare a recuperare. Vi dirò che su Vinted, con un pochino di pazienza, si riescono a trovare buoni affari per quanto riguarda le bacchette magiche, perché ce ne sono davvero tante, davvero tantissime, si riescono a beccarle mediamente sui 10-12€, 7€ è stato un po' un caso, però con 10-12, al massimo quelle più rare sui 15€, si riescono a portare delle bacchette originali Noble Collection. Bisogna stare attenti perché è anche pieno zeppo di cinesate, però basta guardare la scatola, sotto viene sempre riportato il logo della Warner Bros, di Harry Potter, il logo Noble Collection, e sulla bacchetta trovate sempre stampato il logo Warner Bros, quindi WB lo trovate sempre stampato sulla bacchetta. Basta stare un po' accorti e si portano a casa cose molto molto interessanti, a pochissimi euro. Invece ho acquistato anche questa, che è una cosa realizzata a mano da una ragazza che cercavo da un po' e mi è piaciuta parecchio. Si tratta, ragazzi, di questa, che è una replica fatta a mano della penna di Rita Skeeter. È molto molto carina, non esiste una versione ufficiale, almeno chi lo sappia, non esiste in vendita una versione ufficiale, e quindi abbiamo questa penna, con questa appunto piuva verde acido, questo pompon sotto, e poi il suo calamaio, la sua penna. È davvero molto molto carina, ben realizzata, questa l'ho pagata circa 5 euro, però mi piace, mi piace tanto, volevo aggiungerla alla mia collezione, e quindi devo dire che fa la sua porca figura. Fatemi sapere sotto in infobox cosa ve ne pare, se ho fatto un buon acquisto, e credo che comunque su Vinted, scrivendo Rita Skeeter, dovrebbe subito spuntarvi fuori questa, perché ne realizza tante questa ragazza, e quindi, qualora foste interessati, la potete trovare facilmente lì. E infine, ho fatto un super mega affare, perché per soli 20 euro sono riuscito a beccare un prodotto che più o meno costa questa cifra qui, quindi acquistandola direttamente a Londra, al Warner Bros Studio Tour, spendereste la stessa cifra, ma acquistandola sul sito Warner Bros, tra spedizioni, dogana, eccetera, eccetera, vi arriverebbe a costare oltre i 50-60 euro, e quindi l'ho beccata su Vinted, l'ho presa subito, e si tratta, ragazzi, delle orecchie oblunghe dei gemelli Weasley, quindi in vendita nei Tiri Vispi Weasley. Io l'avevo vista quando sono andato a Londra, e scioccamente non l'ho acquistata, non lo so perché, non mi aveva convinto più di tanto, e non l'ho presa, me ne sono subito pentito, e finalmente sono riuscito a recuperare questo prodotto. È ancora imballato nella scatola originale, ovviamente la scatola, secondo me, è la cosa più bella di tutto il prodotto, perché poi alla fine all'interno abbiamo degli auricolari con questo orecchione di plastica, quindi è più un oggetto da tenere così nella box esposto in collezione che è da utilizzare realmente. A me piace davvero tanto, mi piacciono i colori della scatola, mi piace l'orecchio, e qualora vi capitasse di trovarlo, vi consiglio assolutamente di prenderlo, anche perché i prezzi sono abbastanza alti, e quindi beccarlo a 20 ma anche 30 euro può essere assolutamente un buon prezzo e un buon affare. Io sono super super contento di poterlo aggiungere alla mia collezione, lo bramavo davvero davvero da tanto, fatemi sapere se voi l'avete, se voi l'avete acquistato quando siete andati a Londra, al Warner Bros. Tour, se vi piacerebbe acquistarlo quando andrete, perché ragazzi è una di quelle cose che bisogna avere in collezione. A questo punto sono certo, dopo averci pensato parecchio, che è uno di quei prodotti un pochino più rari, un pochino più interessanti, che quando magari viene un amico o un'amica a casa per vedere la vostra collezione, può fare la differenza e lasciarli a bocca aperta, perché le orecchie oblunghe sono comunque qualcosa di iconico. Quindi assolutamente anche questo è un prodotto che sono super contento di aver beccato su Vinted. Adesso sono in cerca della pluffa, cerco una buona pluffa ad un prezzo vantaggioso, anche quella l'ho vista, l'ho tenuta in mano al Warner Bros. Studio Tour, e poi non l'ho presa stupidamente, ma mi sono pentito di questa cosa e spero di trovarla a buon prezzo, e poi alla ricerca della bacchetta di Ron e degli ultimi due volumi di Mina Lima. Quindi ragazzi ci aggiorneremo presto quando avrò altre novità. Fatemi sapere cosa avete acquistato voi su Vinted per arricchire le vostre collezioni, iscrivetevi sotto in info box, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi su Instagram Antonio.seria, e noi ragazzi ci vediamo presto con tante altre belle novità. Ciao!